Grande sfida per la Salernitana Calcio. Venerdì 18 dicembre giocherà presso lo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone. La partita sarà in diretta alle ore 21 su Dazon e su Rai Sport canale 57. Protagonista di questo campionato di Serie B, dopo la partita contro il Lecce, la Salernitana si prepara ad un'altra grande sfida. La BCC di Aquara, una banca orgogliosamente salernitana, farà il tifo per la sua squadra sostenendola in questa competizione. Invitiamo tutti i nostri soci e clienti a sintonizzarsi alle ore 21 sui canali Dazon e su Rai Sport e tifare per la nostra squadra. Questo è l'augurio e lo sprone del direttore generale della BCC di Aquara, Antonio Marino, nei confronti della squadra provinciale.